Iniziamo, ci scaldiamo? Mi vedete? Sì! Quindi il percorso di oggi è diviso in quattro. Ci sarà una parte per le braccia, una parte per gli addominali, una parte per le gambe, anzi prima le gambe e poi le addominali e alla fine sarà un total body. Quattro, tre, due e uno. Mi fermo qui sulle braccia e iniziamo a scaldarle. E ora, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora otto. Uno, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Allora mi fermo qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio qui sulle braccia e iniziamo a scaldarle. Quattro, cinque, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora otto. Poi partiamo subito, subito. Cinque, quattro, tre, due e uno. Stop! Devo cambiare il porta microfono. Prendiamo il pesetto. Ora facciamo dei jumping jacks, ma con il car dei bicipiti. Ve lo faccio vedere di profilo. Car bicipiti. Ok? Ci siamo? Andiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, onci, dodici, tredici, quattordici, quince, sedici, diciassette, diciott, diciannove e venti. Stop! Tutto e due i pesetti. Ora faremo un row. Row. Scendo. Alzata frontale. Ma non con le mani, così come al solito, ma reverse. Su. Ok? Quindi, da qui, row, su, reverse. Alzata. Scendo. Row. Qui. Su. Reverse. On. Qui. Su. Due. Row. Qui. Già che ci siamo, usiamo quasi lo stacco. Facciamo quasi lo stacco. Così ci siamo anche per femorali glutei. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Sette. 10 Ne facciamo 15 11 12 13 14 15 Stop! Appoggiamo i pesi e ci mettiamo a terra Vediamo se riesco a sistemarlo Ci mettiamo a terra Qui Ora faremo Alzo Mi alzo con la porta dei tricipiti Tocco Scendo Su Tocco E Giù Ok? Ne facciamo 10 Vado Tricipiti Qui Giù E On Due Due Tre Tre Quattro Quattro Cinque Cinque Sei 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 Sette 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 Otto Otto Nove 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 Dieci E Dieci Stop Ora Spiderman push up Come? Manteniamo le ginocchia a terra Quando scendiamo Portiamo un ginocchio Al gomito Ok? Quanti ne facciamo? Vediamo Scendo Uno Su Due Su Su Tre Su Quattro Su Cinque Su Sei Su Sette Su Su Otto Su Nove Su Dieci Stop Stop E allungo Ritorno Jumping jacks col card dei bicipiti Questa volta ne facciamo trenta Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Ancora dieci Un Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Stop Prendo tutti i due pesetti e andiamo con il row e il reverse delle alzate frontali 3 Giù Su One Due Tre Su Quattro Continua a staccarsi Cinque Su Alzata Su Su Alzata Sette E alzo Otto Su Ne facciamo venti eh? Nove Su Dieci Su Ne facciamo venti eh? Su Undici Su Su Dodici Su Su Tredici Su Su Quattordici Su Quindici Quindici Su 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 Diciasette Su 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 Diciannove Diciannove L'ultimo Denti E Su Su Stop Appoggiare i piedi I piedi E Andiamo a terra A fare il nostro Touch the feet Con I Tricipiti Stendo Tutto col piede On On Due 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 Tre Tre Quattro Quattro Cinque Cinque Sei Sei Sette Sette Otto Otto Nove Nove Dieci Dieci Undici Undici Dodici Dodici Tredici Tredici Quattordici Quattordici Quindici E quindici Stop il giro Spiderman Push up Da qui On Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Dodici Stop E Streccio Tredici To As